Quando la musica fa male. Introduzione. Ciao a tutti. Oggi parleremo di qualcosa di diverso. Quando la musica può fare male. Ascoltare musica. La musica è importante nella nostra vita. La ascoltiamo ovunque. Ci fa provare emozioni. Ci rilassa o ci dà energia. Però, a volte, può avere effetti negativi. Non per la musica stessa ma per quanto forte la ascoltiamo e per quanto tempo. Volume e tempo di ascolto. La musica suonata da strumenti acustici. Di solito non è troppo forte. Ma con gli strumenti elettrici e gli altoparlanti potenti è possibile alzare di molto il volume. Questo può diventare un problema. Soprattutto ai concerti o nelle discoteche. Effetti sulla salute. Ascoltare musica a volume molto alto e per tanto tempo può fare male alla salute. Danni all'udito. Il rumore forte può danneggiare le cellule dell'orecchio. E queste non possono più ripararsi. Potresti avere difficoltà a sentire bene. Pressione alta. Il rumore forte può far aumentare la pressione del sangue. Favorendo il rischio di problemi al cuore. Ansia e stress. Il rumore forte può farci sentire nervosi e stressati. Problemi di sonno. ascoltare musica alta può rendere difficile addormentarsi e riposare bene. Concentrazione ridotta. La musica molto rumorosa. Specialmente quella ritmata come il rock o il pop. Può distrarci e rendere difficile concentrarsi e ricordare le cose. Effetti sull'ambiente. Anche la natura può essere disturbata dalla musica troppo forte. Animali. Gli animali possono essere confusi o spaventati dal rumore. Specialmente durante i concerti all'aperto. Quiete pubblica. La musica ad alto volume può disturbare le persone che vivono vicino a discoteche o locali togliendo loro la tranquillità. Inquinamento acustico. Infine, il bombardamento sonoro causato dalla musica a volume alto, dai mezzi di trasporto o da macchinari di lavoro può essere considerato inquinamento acustico, che fa male sia a noi che all'ambiente. Grazie a tutti.